L'ultimo successo datato 28 settembre, il Terramolo aveva conquistato a Sant'Arcangelo. Ad ora ventina di chilometri di distanza e dopo cinque giornate la compagine bianco-rossa torna a far festa e spugna a San Marino e si lascia alle spalle un periodo di tensione che stava salendo dopo che i tre punti mancavano da cinque giornate e con una serie di infortuni che preoccupavano. Proprio l'assenza hanno motivato il cambio di modulo di Vivarini 3-5-2 con Perrotta nel trio centrale anche per il forfait in extremis di Brugaletta, Masullo e Scipioni sulle fasce di Paolo Antonio Mezzala. Il tecnico sanmarinese Covelo vara un 4-2-3-1 e punta sulla rabbia da ex di Casolla per la prima volta titolare. Il Terramo costruisce in avvio i presupposti del successo, già al secondo Cenciarelli inventa per Donnarumma che davanti a Vivan spreca così. Neanche il tempo di rimuginarci troppo che il diavolo passa in vantaggio al nono, gol direttamente da corner di Alessandro di Paolo Antonio, Sensi si stacca dal primo palo e la traiettoria sorprende Vivan che non evita che la palla oltrepassi la linea di porta. Donnarumma riscatta l'errore iniziale quando dopo tre minuti va a guadagnarsi un calcio di rigore. Su di lui è entrata scomposta di Paolini. Andreini di Forlì non ha dubbi ed è lo stesso Donnarumma a trasformare la massima punizione. Vivan intuisce e tocca ma nulla da fare. Chi pensa però ad un mattinè tranquillo si sbaglia. Al ventesimo proprio l'ex Francesco Casolla riapre la partita, raccoglie una corta respinta di speranza e di prima intenzione batte Tonti con un raso terra angolato e imparabile. La compagine del Titano, appena otto punti e con una sola vittoria nel carniere, reclama un calcio di rigore alla mezz'ora quando Diachite tocca con un braccio un traversone di Sensi. Andreini impallato da Casolla probabilmente non vede e il difensore Franco Magliano la passa liscia. Fase scoppiettante sul ribaltamento di fronte, Cenciarelli fa viaggiare Masullo, cross morbido per Di Paolo Antonio che manda alle stelle l'1-3. Controffensiva dei padroni di casa, Casolla verticalizza per Lamantia che fa gridare al gol i tifosi bianco-celesti. Altro brivido per il Teramo al 42esimo, fuga di Cotto che mette al centro. Diachite travolge Tonti ma è strepitoso nel degare il 2-2 a Sensi. Ripresa e subito primo giallo per Amadio. Quindi entra in scena l'ex più atteso, la Padula, 24 gol tre stagioni fa a San Marino. Alta la sua punizione, ancora la Padula al 18esimo impegna severamente Vivan con una botta dal limite. Ventesimo, balzo Felino di Tonti sul quasi tentativo di autogol di Di Paolo Antonio. Al 22esimo, doccia fredda per il Teramo, Amadio atterra Poletti e viene espulso per doppia ammunizione. Il merito del Teramo però è di non perdere lucidità quando i nervi avrebbero potuto tradire. Anzi, Di Paolo Antonio spaventa Vivan. L'unica concessione teramana è al 28esimo sul diagonale Mancino di Poletti, respinto da Tonti. In campo Lulli, Pigini e Bucchi per Cenciarelli, Donnarumma e la Padula. Il Teramo amministra il vantaggio e anzi con Lulli all'83esimo sfiora anche il Tris. Il Teramo si rialza e fa festa e sulla difesa 3 potrà continuare a lavorare. Crisi piena per il San Marino e ore contate per il tecnico Covelo.